Buonasera, buonasera. Sì Massimo, lo dicevi tu. In effetti, vedendo questo murale di TV Boy, mi sono messo a pensare ai pugni nell'arte e mi sono sorti un sacco di domande. Ci sono intanto pugni nell'arte e cosa rappresentano? Me ne metterei uno in casa? Ho comprato latte? Ho portato fuori la spazzatura? Tutti i dubbi esistenziali che mi vengono... Eh sì, perché mi stimoli Massimo durante la settimana. Un sacco di domande. E ti proporrei questo sabato di fare però un percorso all'indietro, partendo dal Novecento, andando verso le origini, perché sicuramente il pugno chiuso nel Novecento è quello legato alla sinistra, all'area socialista. Perché? Perché le cinque dita unite insieme sono il simbolo di chi lotta unito, superando le proprie differenze. Ci viene in mente il più famoso, forse, è il pugno chiuso del comunismo russo, quello che stringe la falce e il martello. Eccolo qua. Oppure quello che ricorre anche nell'iconografia della propaganda di Lenin. Lenin appare spesso con il pugno chiuso rivolto verso l'alto, anche perché, come vediamo in questo manifesto, spesso stringe degli oggetti simbolici, come il suo umile berretto da pescatore, che oggi tra l'altro si chiama proprio Lenin Cap, lo chiamano, no, gli appassionati. Ma negli Stati Uniti di oggi c'è ancora un altro significato del pugno alzato, ovvero quello di essere il simbolo del Black Lives Matter, anche se anche lì nasce come simbolo della lotta degli afroamericani negli Stati Uniti già degli anni Sessanta, come dimostra una famosissima fotografia di Smith e Carlos alle Olimpiadi del 1960. Sì, ma possiamo considerare un'opera d'arte, in realtà, perché è talmente iconica da rappresentare un po' il Novecento. Ma avete notato che Smith e Carlos hanno un solo guanto nero a testa? Sapete perché? C'è una storia incredibile dietro a questo dettaglio. Smith e Carlos, primo e terzo classificato ai 200 metri piani, decidono alle Olimpiadi del 68 di manifestare, mostrare il pugno alzato contro le segregazioni razziali mentre suona l'inno nazionale. Però c'era un problema. Carlos, il terzo, aveva lasciato i guanti al villaggio olimpico. Quindi fu il secondo classificato, l'australiano Peter Norman, a dire beh, ma indossatene uno a testa. Mi penso che a certe volte pensano gli studi, chissà qual è il messaggio. In realtà le cose sono spesso molto banali. Scusa, visto che sei tutto, uno ha il pugno destro e l'altro ha il pugno sinistro. Esatto, proprio per completare. E' un fatto sempre così. E anche perché, essendo lo stesso paio di guanti, dovevano... Io penso che fosse anche quello che, avendo un unico paio di guanti, si posizionava. Che cretina, vedi come sono stupida. Dovevano organizzarsi. Ma poi anche l'australiano Norman partecipò per solidarietà, si fece portare una coccarda contro le segregazioni razziali. Il problema è che tutti e tre, per questo loro gesto, poi furono squalificati a vita dalle loro federazioni. Ma nel 2006, quando Norman morì dopo una vita di stenti e di fatiche, perché appunto, essendo stato squalificato, la sua carriera fu stroncata. Cosa è successo nel 2006? Furono Smith e Carlos a portare la bara dell'amico morto sulle loro spalle. Quindi non se ne erano mai dimenticati. Questo per dire quanto è potente un pugno chiuso. Ma torniamo ai nostri dipinti, Massimo. Facciamo un altro passo indietro. Arriviamo nell'Ottocento. Anche nell'Ottocento abbiamo Emilio Longoni, esponente del divisionismo, che dipinge l'oratore dello sciopero. Anche qui, umile operaio, che esorta i compagni alla lotta, anche lui con un pugno chiuso, arrampicato sull'impalcatura di un cantiere. Qui siamo a Milano, perché se ci fate caso, sullo sfondo notiamo il classico tram giallo. e anche una carica della forza pubblica contro i manifestanti, anche loro con il pugno alzato. E questo Massimo è un dipinto particolarmente attuale, tra l'altro, perché questa settimana quattro operai del Sulcis si sono, abbiamo letto la notizia, arrampicati su una ciminiera di 100 metri, anche loro in segno di protesta. Notizia di ieri è che sono scesi e stanno bene. Tutto a posto. Ma la domanda è tutti i pugni visti finora sono pugni politici. Ovviamente ce ne sono tanti altri, io ho riassunto. Ma mi sono chiesto questa settimana ci sono anche pugni nell'arte religiosa? E lì, cercando, Massimo, ho trovato scoop del sabato sera, ormai diventa una tradizione, ti porto sempre dei dettagli croccanti. Ebbene, anche Cristo sbroccò. Gesù un giorno non ci ha più visto, ha sbroccato e Giotto ha fatto il pugno chiuso. Ha fatto il pugno chiuso, ma con anche gesto abbastanza minaccioso. Ce lo mostra Giotto nella cappella degli Scrovegni a Padova. Vedi il pugno alzato per minacciare e cacciare i mercanti dal Tempio di Gerusalemme che con le loro gabbie di animali che vediamo ritratti ai loro piedi e con la loro avidità stavano profanando un luogo sacro. E Giotto ce lo mostra in questo modo per sottolineare il suo lato profondamente umano. Questo è il gesto più istintivo che potremmo fare quando vogliamo difendere qualcosa di caro oppure allontanare qualcuno di minaccioso. Proprio un gesto atavico che ha origini antichissime e che ritroviamo anche già nell'antico Egitto, nel dio Bes, eccolo qua, che non è proprio il Brad Pitt diciamo delle divinità egizie, non è bellissimo, un po' bruttarello, sto facendo body shaming divino. No, in realtà però, nonostante l'aspetto fisico, poco rassicurante, era molto utile perché il dio Bes proteggeva le case dal malocchio, infatti al pugno alzato proprio per cacciare gli spiriti maligni. Quindi a Natale, quando non si sa mai cosa regalare ai parenti e ai suocci, beh, una statuetta del dio Bes potrebbe essere... Come avrebbe detto a Torisi, ma me lo segno. Potrebbe essere un buon consiglio per gli acquisti. Ma ci fu soltanto un artista in grado di racchiudere la poesia in un pugno chiuso, questo artista è Pablo Picasso in Guernica. Sappiamo, manifesto contro ogni guerra, contro il regime di Franco, ma guardate nella parte bassa del dipinto, al centro, c'è un pugno, un pugno chiuso. Picasso in origine voleva dipingere un pugno chiuso per mostrare la forza fisica necessaria nei conflitti e poi cambiò il dipinto, aggiunse un fiore, vedete, per esprimere gentilezza, una disperata speranza di pace, perché il pugno chiuso è questo, Massimo, è sempre simbolo di forza, ma sempre e soprattutto forza delle idee. Grazie, grazie a Jacopo.